Cristian Sbaraglia, la partenza del Liberazione, oggi i piani sono complicati con questa pioggia, come vedi la gara? Che ti aspetti? Sarà sicuramente una gara abbastanza complicata anche a causa della pioggia, ma speriamo di fare una bella corsa e dare il massimo. Secondo te oggi, anche visto il tempo, bisogna aspettare la volata o anche inserirsi in qualche fuga, in qualche tentativo? Sì, penso sarà difficile che arrivi in gruppo compatto, anche a causa pioggia, ma vedremo dai. Ok, grazie mille, in bocca al lupo, ciao!